Da sempre le cose migliori sono state imitate. Certo, gli originali hanno tutto un altro sapore. Qui a colazione scegliete gli originali Kellogg's Corn Flakes, sono più buoni. Perché hanno il sole dentro e quella tostatura perfetta unica di Kellogg's che li fa più croccanti, inimitabili. Kellogg's Corn Flakes, quelli con il sole dentro.